Sono arrivati i nuovi Mama Surprise Baby Shower! Wow, ci sono sette sorprese! Il stickers per fare le foto! Questo cos'è? Wow, è il certificato di adozione! È vero! Wow, il quadernino! Nel quadernetto trovi un adesivo dove puoi scrivere il nome del tuo cucciolo! C'è anche l'ecografia! Ora apriamo le sorprese! La copertina! Il collare! Wow! C'è anche la spazzola per pettinarlo! Io ho trovato il biberon! Che bello! Sono tantissimi! Tutti da cocolare! Mommy Surprise Baby Shower! Ciao! Ciao!